Stato di famiglia Dopo le peggio di così lo stato mio? Signora, io ho domandato il documento, lo stato di famiglia Mi occorre per rilasciarle la licenza di vendita Volevo dire Ehi, ehi, ehi Ehi, ehi, ehi Oh, buongiorno, scusi Scusi Si metta in fila Si metta in fila Si, lo so che devo fare la fila Ma volevo sapere se è qui che devo fare la fila Altrimenti faccia la fila qui, poi devo andare a fare la fila in un altro posto In fila, non ci faccia perdere tempo In fila, come tu Ehi, che siamo sotto le armi? Ehi, per bacco Volevo soltanto sapere Beh, vada allo sportello delle informazioni Ehi, c'è la fila anche là Ehi, scusi, lei come si chiama? Doretti Allora, lo sportello è questo Grazie, lei è pratico Eh, cosa vuole? Sono anni che vengo qua E questa mattina, per esempio, è dalle otto che sto facendo la coda Ah, sì? Di paglia C'ha la coda di paglia, lei? No, no, no Mi sono presentato Di paglia è il mio cognome Ah, piacere Senta Sì? Viene anche lei per farsi fare la carta d'identità? No, no, veramente io sono venuto per ritirare un documento per la pensione E' già in pensione, così giovane? No, pensione di guerra Oh, guerra Ho qua la mano, 905, classe di ferro Tre citazioni Al valore? No, tre citazioni per debiti Ma questo dopo congedato No, quando ero sotto le armi sono stato nominato caporale davanti a tutto il reggimento schierato Cospita, e che cosa aveva fatto? Eh, avevo risposto male al capitano E lo avevano fatto caporale? Sì, ma prima ero sergente No, ancora Cosa c'è? C'è lo sciopera singhiozzo Ah, per quello che il signore è vestito di nero? Senta, vuol fare una partita? No, non so mica giocare poi dopo E' per ammazzare il tempo Sì? Io sono previdente Queste code durano ore ed ore E lo so E' per questo che io mi sono portato le carte Ah, se lei permette mi faccio la barba Come si fa la barba? E' ingegnoso Io se si fosse un cappuccino con due brioche farei colazione Non c'è la colazione al vassoio Farebbero affari E lei scherza, eh? Ma io ho imparato a usare bene il mio tempo Sono anni che vengo a questo sportello Sempre per la pensione di guerra? Sì, ma non per l'ultima guerra 918? Oh, ma allora le porta bene, Liane, hai visto? No, non è per la mia pensione E riguarda la pensione di mio bisnonno Si tratta della prima guerra di indipendenza sotto Garibaldi E la danno già Che bravi Oh, finalmente Ancora un paio di singhiozzi poi tocca a noi No, 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 molto prima Li vede questi due? Se ne vanno quasi subito Sì? Io li conosco Ecco, vede questo? Sì, questo ha presentato una domanda Di licenza per caccia all'elefante Ma la sua documentazione non è mai in regola Grazie all'elefante in Africa? No, 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 qui da noi Ci sono gli elefanti da andare a caccia? No, non ci sono più Ma quando lui ha presentato la domanda c'erano La burrocrazia e la burrocrazia La burrocrazia e la burrocrazia Orca, allora dovrebbero andare a scivolare più svelto Se la burrocrazia Dica pure No, no, guardi Faccia prima il signore Io finisco di radermi Grazie, grazie Grazie Buongiorno Buongiorno Ecco, sono venuto per farmi fare la carta d'identità Queste sono le fotografie, vede? Sono venuto un po' male Perché sono di fronte di profilo Sono molto più fotogenico Non importa, non importa La domanda? Eccola Eccola Benissimo La carta d'identità? Sì, la carta d'identità Me la dà subito o devo ripassare? No, sono io che le ho chiesto la carta d'identità No, scusi Sono io che ho chiesto la carta d'identità No, sono io che voglio da lei la carta d'identità Lei vuole da me la carta d'identità? Sì Allora lei deve passare di qua E io devo passare dall'altra parte Scusi, non ci siamo capiti? Sì, sì No, no Le dico di sì Le dico di no Senta, lei è venuto qui per farsi fare la carta d'identità Sì Ebbene, se non mi porto un documento Io la carta d'identità non posso fargliela Come sarebbe dire? Sarebbe dire che se io non le mostro una carta d'identità Lei non può farmi la carta d'identità Poi, pressa poco Sa che cosa le dico? Che cosa? Che non ci siamo capiti Sì, sì No, no Le dico di sì Le dico di no Scusi, mi guardi? Mi vede? Mi vede? Ecco Se io avessi la carta d'identità Non sarei venuto qua a chiedere a lei di farmi la carta d'identità E dagliela E dagliela È chiarissimo come dice lei È chiaro Ecco E allora? E allora? Mi faccia la carta d'identità Quando vengo? Domani? Dopodomani? Sento, sento Non faccia lo spiritoso adesso Lei viene qui con una domanda E dice di chiamarsi Pasquale Doretti Sì, signore E se invece fosse Nicola Tuzzabanchi Nicola Tuzzabanchi? Nicola Tuzzabanchi? Nicola Tuzzabanchi, dov'è? Nicola Tuzzabanchi Non c'è, non c'è Ma cosa c'è? Nicola Tuzzabanchi l'ho detto io È un nome così per dire Ah, l'ha detto per dire? Ma sì Ma perché io sono Pasquale Doretti E chi me lo assicura? Lo assicuro io Provi a chiamarmi Anzi, no Provi a chiamarmi lei, signore Vede se non sono Pasquale Doretti Pasquale Doretti Eccolo, presente Ha visto che sono io Pasquale Doretti? Senta, signor Doretti Ha visto che mi chiama anche lei Doretti? Ha visto che mi ha chiamato? Se lei vuole la carta d'identità Mi mostra un documento equipollente Oppure l'atto di cittadinanza Lo stato di famiglia Il congedo militare L'atto di nascita I carichi pendenti La fedina penale E l'attestato della puntura antirabica Lei mi ha preso per un bassotto Scusi, eh Mi ha preso per un bassotto, lei Oppure due testimoni Due testimoni? Sì, due testimoni Ma io non devo mica sposarmi Io voglio la carta d'identità, caro lei No, due testimoni Ossia due persone che sono pronte a testimoniare Che lei è realmente Pasquale Doretti Abbiamo qua il signor Di Fieno Un po' testimoniare No, 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 di Paglia Di Paglia Ma io non basto Perché quanto è alto? No, no, dico Ci vogliono due testimoni E va bene Testimono io Purchè si sbrighi Grazie Questi uomini ci vorrebbero agli sportelli Ecco i due testimoni Va bene Ci sono i due testimoni Allora tutto a posto Hanno la carta d'identità? No, io non ho la carta d'identità Veramente non ce l'ho neppure io E allora mi dispiace Ma i due testimoni non servono Eh sì A meno che ciascuno di essi Non presenti due testimoni Che ne accertino l'identità Oppure presenti tutti i documenti Cominciando dall'atto di cittadinanza Che cosa ci vuole per avere l'atto di cittadinanza? La carta d'identità Sa che cosa le dico? Che non ci siamo capiti No, no Lei sa benissimo cosa vorrei dire È sospeso il lavoro Eh, un altro signor Ah no, dico, facciamo una partitina? Un 3-7 Ma no, che partita? Io voglio la carta d'identità Senta dire, retta a me Se ne vada Io? Se lei non ha un documento Se non ha due testimoni Se non è conosciuto personalmente dall'impiegato Lei la carta d'identità Non riuscirà mai ad averla E io non mi muovo finché questo non mi fa la carta d'identità Capito? Oh Oh, finalmente Finalmente A chi tocca? Sempre a me, sempre a me Sempre a lei Quello della carta d'identità Sì, signore Ma io le ho già detto Permette Non voglio più la carta d'identità E che cosa vuole? La licenza di pesca La licenza di pesca? La licenza di pesca Ci vuole un documento per farsi fare la licenza di pesca? Veramente no? Ecco, allora mi faccia la licenza di pesca Va bene La licenza di pesca è intestata a chi? Pasquale Doretti Pasquale Doretti, sono io Pasquale Doretti Eccola, mille lire Ecco E adesso mi faccia la carta d'identità Di nuovo? Sì, signore Oh, ma gliel'ho detto Mi deve dare un documento che attesti? Ecco, la licenza di pesca è intestata a Pasquale Doretti Non dica mica di no, l'ha scritto lei Avrà mica fatto il falso Altrimenti lo denuncio Eccoli le fotografie Tutte e due sono venute un po' male Perché sono di profilo Sono molto più... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.